Speriamo che questa missione dia risultati, 100 milioni non sembrano tanti, ma in certi paesi con 100 milioni si fanno tante cose, si risolvono tanti problemi. Cambiamo argomento, andiamo a parlare di Ragusa, siamo in piena campagna elettorale. Allora effettivamente c'è una cosa che io non riesco a capire, un telespettatore si chiama Enzo ci ha mandato delle immagini di Viale dei Platini. In Viale dei Platini che è stata asfaltata da poco io non riesco a capire come è possibile che non ci sia una organizzazione fra il comune che fa le strade e le ditte che invece vanno poi a bucare. Ma porca miseria, la nostra città è piena di queste strisce che poi sono arripizzate, ve l'ho già detto, su via risorgimento, l'assessore ci ha assicurato che farà via risorgimento, io spero che lo faccia prima delle elezioni, se non ce la faccio io la campagna elettorale contro, dico ma possibile mai che non ci sia una programmazione? Poi qua si fa la pezza, si ci fa il buco, si salta con la macchina e si arrovina. Io ringrazio Enzo per la segnalazione, ha ragione, Viale dei Platini è frisca frisca asfaltata e poi il sindaco dice, hai visto quante strade abbiamo asfaltate? Si ma hai visto quante strade rompiamo? Prima cosa. Seconda cosa, abbiamo queste immagini che riguardano Ibla, è scoppiata la rivoluzione oggi, ah cosa stanno facendo? Sono andati, poi sono venuti i carabinieri, la sovrintendenza, la guardia di finanza, tutti insomma, perché si sono messi a pulire una zona di via peschiera. Ora che cosa è accaduto? A quanto ci risulta sono 7-8 proprietari di imprenditori di Ragusa Ibla che hanno preso questo terreno, che è di proprietà della chiesa, con l'autorizzazione di padre Floridia e hanno cercato di pulire questa zona per realizzare, pensate un po' un parcheggio, pare che ci vanno lì una cinquantina di auto, potrebbe essere un'attività privata, ci mettiamo una sbarra e facciamo pagare, visto che l'amministrazione, dicono le persone cattive, non riesce a fare i posteggi a Ibla. Quindi non c'è nulla di preoccupante, non è successo nulla di grave, è solo una pulizia autorizzata di una parte di via peschiera dove praticamente si dovrebbe poter realizzare una spianandolo, appiattito, facendo un posteggio per quelli di Ibla. Un argomento da trattare in altra occasione, ma oggi parliamo di elezioni comunali con un ospite in studio. Vediamo.